Musica Buonasera a tutti e benvenuti a Gnovis. La manifestazione è stata convocata a livello nazionale per pandi la loro contrarietà via le ultime declarazioni dalle ministri dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sull'esame di Stato dal 2022. I studenze si sono chiatassi in place Prindimai e gli snuf di Uedimattine a domande in che la formula e dalla maturità te tegni conti dagli ultimi tre anni di scuole a Salz con didattiche in presince e a distancia. Tra la stessa place i fantazze si sono chiatassi la settimana passata per protestare a Quintri dall'alternance scuole e lavoro dopo l'incidente mortal che gli ha costato la vita a Lorenzo Parelli. Plui dalla metà dai studenze dalla nostra regione continuerà il suo percorso di formazione al liceo. Sono il 53,2% i fantazze che hanno fatto queste scelte per le scuole secondarie di secondo grado e le stagioni superiori. I licei più considerati sono il scientifico con il 13,4% e il scientifico con l'orientamento di scienze applicate l'11,3%. Alla Sielt un istituto tecnico il 36,3% dei studenze, il 24% con l'orientamento tecnologico, l'1,7% con l'orientamento economico. Il 10,5% dei studenze di terza media e della regione investite alla Sielt un istituto professionale. I numeri sono stati comunicati dal Ministero dell'Università e dalla ricerca sulla Fonde di Cercalevignut Fure, con le iscrizioni online per le scolastiche prossime che assiciereranno i giorni. In regione sono stati furi 2444 i newscast di infezioni di Covid e sono stati 13 i muovers di che è anche una femmina di 65 anni di Montreale in Valcellina e manchiata in ospedale e una femmina di 63 anni di Isgonic manchiata in chiasa. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30 voti, invece i pazienti ricoverati in altri reparti di ospedale calano a 484. Per ciò che riguarda l'Ande dalla diffusione del virus fra miecce la popolazione, la fascia è più in malmetù degli e che è dai 40 ai 40 nufains. In tal sistema sanitario regionale sono salta di sfure 66 positività, le persone in isolamento sono calate a 50 voti e 391. All'estate arrestate dalla polizia locale con l'accusa di resistenza pubblica ufficiale. Nius Malans per Ugo Rossi, Conseguir Comunale a Trieste, eletto talis finis dal Movimento 3V e coniusciute palisos posizions Novax. Ugo di mattina nella commissione del Conseguir che Rossi al fa sparta, ieri da ora fa un sorelu calo dei creatori Giovanni Totti. Rossi è là dentro i condotti che lei è entrata e gli è regolamentata con l'obbligo di certificazione verde che lui non ha. Con l'adentro, Daudi dice che si conta, gli ha dato anche un po' con la scelta dell'amministrazione che aveva l'incarca di fare i controi della certificazione. Che ha i tre sconsegirsi a reclamare gli sforzi dall'ordine che hanno mandato a Rossi di lasciare la struttura in questo momento alle in spiete di convalide dall'arresto all'arresto domiciliare. Con i domandi nel Green Pass, il down non differente al suo e alveg denunciata. Le società non sarebbe a Trieste, in tal controllo fatto dalla polizia di Stato, in tali sbotteghi, spal controllo della normativa anti-Covid. Un giovane di 23 anni, già coniuscito dagli sforzi dall'ordine, all'està denunciato per sostituzione di persone. Al momento, al controllo dei agienzi, in un locale di ristorazione di Via Giulia, l'ha mostrato un Green Pass intestato a un'altra persona. Trattamenti di disinfestazione in tali ambienzi, Dula che a ieri nelle scuessi in fase di stadio Nadure, il servizio di igiene dai alimenti di Vignincia Animale, dall'azienda sanitaria universitaria e dal Friul centrale, ha bloccato la commercializzazione di Dejanis di Miars di Persuzzi di un stabilimento di Sandenele. Dai controlli fatti dai carabinieri dal NAS alle Sardad Furche, per un bielto di timp, hanno fatto trattamenti di disinfestanti che hanno interessato anche i persuzzi che ieri in D'Aura stadionai, che dopo hanno fatto anche i metodi in vendi. Il Consorzio del Persu di Sandenele ha specifiche che non sono pericui per la salute della INTE, che il blocco temporanea delle vendite ha le state decidute per dai timp alle aziende sanitarie, di fa ai triscontro i plui affons. A sorrivati di botta, 50 milioni, l'isori di domande di cassa integrazione autorizzati dall'INPS, in Friul Vinesi a Iulia, palando il 2021. Un valore che è la metà rispietta ai 94 milioni di ori dal 2020, ma che resta in timo un evore alto, se si ten conto che il colprin della pandemia le restate in tal 2000 cutuardis, con poc ma anche di 30 milioni di ori. A livelli di settore, l'Ande dalle sdomande, sa corrispunta ai timp più lunghi che hanno avuto i bisogni e i terziari per tornare a partire rispietto al settore secondario. Se è tale industria, l'isori sdomandare, sa son calaris di più della metà, e tale edilizia addirittura son calaris a un quart, in tal cumierce, in tal terziari, la diminuzione, si è ben evidente, si è fermata al 40%. Alle durate cinca insale è stata fatta in tune novantine di staz e alla chiapazzo informazioni su passe 30 vot milions di planti su un lavoro di riquelte e lavorazione informazioni che hanno partecipato a centenasi ricerchi a dosi di tutto il monte, anche dal Dipartimento di Scienze Sagroalimentars, Ambientals e Animals dall'Università di Udin. All'estate è portata a conclusione, così l'inventare i planetari dai arbui, che alla portata stima in 73 mila e tre ginta le specie sarboris che son sull'attiere. Il cutuaris parcenti in plui, dice che si crodeve fin cumò. Circa 9000 d'uginte di questi specie, se saresti in antimodi di scuviargi. E da urlo, opinione dei studios, che staglie le prime stime scientificamente ricrodibili dalla diversità tarboree e sustiale globale. E a Udin, pararind, in timo plui salutar, laier a sonda ur arriva ad uginte 50 roi, che saranno plantaste alle zone orientali dalla città, atti in grazie di una donazione di Lega Ambiente. Un nuovo bosco arriva a Udin? Sì, arriva in altri planti per fare un bel bosco. Io ho di ringraziare il dottor Gottardo, che l'ha venuto un premio, e il premio ha le 250 planti, e lui ha pensato di regalarle sul comune di Udin. Non ho metto a disposizione il terreno, dove venneranno plantati questi planti. Ma non ho visto queste belle iniziative, anche a Lega Ambiente, e lui dà un contributo a quel che noi abbiamo già cominciato, col bosco e come fate le zone est. Arriveranno altri planti, il bosco si slargierà, quindi una bella notizia per l'ambiente, per chi vive in Udin, che occorre e spereranno tra i prossimi anni, aia e poi netta rispetto a comune. Un premio importante che è il vincito da Emilio Gottardo? Sì, un avore importante, anche per una soddisfazione personale, perché è arrivato improvvisamente, ma è un avore gradito. Un premio come l'uomo che piantava alberi, in questo senso che io, tra i anni passati professionalmente, sono stato impegnato, tra nostra regione, a plantare arboli, e a far plantare arboli di quei altri. Ho estimato che un 5 milioni di planti sono stati smettati sui, grazie alle iniziative, ma è l'iniziativa della regione, quando si facevano questi robbi, tra i anni 90. e quindi il fatto di plantare arboli è stato riconosciuto come elemento per poter fare assegnamenti dei premi. E con questo è tutto, per lo snotto, con nuovi storici di Odisse, lunedì, sempre sono un buon convinto, e sozzare. Mandi e buonasera. Grazie.